Stavano per entrare in un appartamento al momento vuoto di via 24 Maggio a Borgo Abbuggiano. Attraverso una finestra, Marleurla, di un vicino accortosi del fatto, li ha costretti a rinunciare e a mettersi in fuga. Fuga però durata poco, i malviventi sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Pescia congiuntamente a quelli di Montecatini a bordo di una Fiat Stilo, lungo via Francesca Vecchia, tra Pesce e Uzzano. Con sé avevano ancora gli arnesi per lo scasso, oltre ad un coltello di 14 centimetri ed una dose di hashish. I presunti autori, tre giovani, due nordafricani e un fiorentino, dietrà compresa fra i 22 e i 45 anni tutti i residenti a Firenze, sono ora accusati di tentato furto in abitazione, possesso di arnesi atti allo scasso, porto ingiustificato di un coltello e violazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 18, in una zona residenziale del paese. Che significato ha il fatto che siano fuori dalla provincia? Conferma quel sospetto che spesso vengono da fuori per commettere questi raid di furti in abitazione e poi ritornare nel paese dove abitano. Per quanto riguarda la Val di Nievole c'è un calo per quanto riguarda i furti in abitazione anche abbastanza considerevoli. Evidentemente anche grazie all'attività preventiva che stiamo svolgendo in questo periodo e ne è dimostrazione il fatto che in occasione di questo arresto c'erano diverse pattuglie fuori che hanno potuto procedere all'arresto in tempi molto tempestivi. È un calo, ripeto, considerevole e quindi per il momento siamo abbastanza soddisfatti. Gli investigatori stanno ora verificando se gli arrestati, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici, si siano resi responsabili di altri furti. Il GIP ha intanto convalidato l'arresto e tre sono ore in attesa dell'udienza fissata per il 22 agosto presso la casa circondariale di Pistoia.